Cosa ne pensi della reunion dei motorecru Pino? Io credo che il music business certe volte non conosca vergogna. Ragazzi, a me quello che non mi è piaciuto è questa presa per il culo, perché tanta gente ha comprato il DVD, è andato al concerto, anche io compreso io. Siamo andati al concerto sapendo che era l'ultima, anche perché Mickey Mouse è messo malissimo proprio, con quella sua malattia terribile che ha. E' questa, però vi ripeto, io l'ho vista al forum di Assaco, hanno fatto un concerto che hanno spaccato, è una band che ci sta ancora dentro. La cosa che non mi piace, come vi ho sempre detto, per me se un artista è un uomo di merda, una donna per carità, di merda, a me già quello che fa musicalmente mi scade proprio, purtroppo. Io sono fatto così e questo gesto non mi è piaciuto e bastate che gli mettessero un po' di dollari sotto il naso.